Sì, praticamente siamo qui in questa manifestazione al quarto anno del Team Miglio, abbiamo voluto fare una presentazione con i piloti 2008 abbinata a questo evento del freestyle, una cosa nuova, penso che sia una cosa, siamo i primatisti di questo tipo di manifestazione, sta riuscendo molto bene, di fatti lo dimostra l'affluenza di pubblico e niente, abbiamo ancora due spettacoli e vediamo cosa succede alla fine fino a stasera. Massimo Migliorati, prima pilota, poi di Enduro, poi di Supermotard e adesso team manager di questa nuova squadra. Sì, è una nuova avventura, ormai il casco lo ha appeso a chiodo, ma diciamo che non lo rimpianco più di tanto perché sono comunque soddisfatto di fare questo lavoro che è comunque la mia passione, è un sogno per me, il team è arrivato a ottimi livelli, nel 2007 abbiamo sfiorato il campionato del mondo con Pignotti, arrivando poi alla fine seconda, avendo in squadra piloti di un certo calibro, diciamo una cosa impegnativa che richiede molta attenzione, molto lavoro, però mi sembra un sogno, ripeto, perché è una mia grande passione, quindi andiamo avanti con serenità. KTM ci crede, com'è la squadra? La squadra, io voglio sempre formare una squadra composta da persone armoniose, il team secondo me è importante dove ci sia armonia, amicizia, perché secondo me se c'è questo influisce anche sui risultati, naturalmente non solo questo conta, ma bisogna fare un grande lavoro e vediamo di dare del nostro meglio. Come è cresciuta in questi 4 anni questo team? Ma diciamo che ho iniziato io con la KTM solo il primo anno, poi è arrivato Pignotti facendo subito secondo al campionato italiano, il terzo anno praticamente come ho già detto prima abbiamo sfiorato il campionato del mondo, ci riproviamo quest'anno anche se la concorrenza è molto accanita, ci proviamo.